Benvenuti al Teatro Amintore Galli, sono Michela Cesarini, storica dell'arte, collaboratrice dei Musei Comunali di Rimini e oggi approfittiamo dell'iniziativa operatua di Coop Alleanza 3.0 per darvi qualche informazione in più sul busto ritratto di Luigi Poletti che è in gara per il restauro. Il busto è un'opera del 1857 realizzato dall'importante scultore neoclassico Pietro Tenerani, attiva a Roma, che spesso ha lavorato insieme all'architetto molto famoso al tempo Luigi Poletti. Entrambi sono stati accademici dell'Accademia di San Luca, entrambi ne sono stati presidenti ed entrambi sono andati a Roma provenienti dalla loro città in seguito alla vincita di un pensionato. Pietro Tenerani veniva da Carrara, era nato nella provincia di Carrara, quindi proveniva da un luogo dove il marmo è un elemento fondante e proprio per la sua capacità di scolpire il marmo era andato a Roma vincendo un pensionato e lì ha avuto una formazione importantissima presso due scultori straordinari emblema del neoclassicismo. Il primo Antonio Canova e l'altro, soprattutto questo è stato molto importante per lui, è stato il danese Bertel Thorvaldsen. Tenerani è stato in primis il suo allievo prediletto, poi ne ha portato avanti proprio la bottega fino al 1844 quando Thorvaldsen è venuto a mancare. Il busto rappresentante Luigi Poletti, l'architetto che ha progettato nel 1843 il teatro che oggi chiamiamo a Mintore Galli, si trovava all'ingresso della platea, al di sopra della porta di ingresso e presentava anche un'iscrizione in latino che menziona sia il nome di Poletti che il nome di Tenerani, questa iscrizione esiste ancora. Quando verrà restaurato il busto ritratto verrà collocata su un piedestallo apposito, non verrà ricollocato nella stessa posizione ma in una posizione che ne possa valorizzare la struttura, la bellezza della realizzazione e anche l'importanza dell'autore. Nel 1831 a Roma un viaggiatore illustre aveva osservato una stelle funeraria realizzata da Pietro Tenerani nel 1825. Questo viaggiatore illustre era niente meno che Giacomo Leopardi che poi ha realizzato nel 1831 un'ode, una canzone sopra un basso rilievo antico. A proposito di basso rilievi funerari, qui nella città di Rimini esiste un interessantissimo e quanto misconosciuto basso rilievo funerario che si trova nella chiesa di Sant'Agostino. Nel 1853 Pietro Tenerani ha realizzato per la chiesa di Sant'Agostino una splendida stelle funeraria. È stata commissionata da Luisa Lettimi, una nobile riminese che purtroppo aveva perso il marito Alberto e il figlio diciassettenne Edoardo. Ha commissionato questa straordinaria opera a Pietro Tenerani e l'opera dimostra lo stile neoclassico del Tenerani, un'opera con un dramma contenuto che rappresenta Luisa, la madre e moglie infelice, come viene detto nell'iscrizione, seduta su una sedia di foggia neoclassica con un angelo che la separa dal marito e dal figlio, un bell'angelo dalle ali spiegate. Lei è confortata per quanto possibile dalle tre figlie rappresentate alla maniera neoclassica con le carni molto levigate, con i capelli raccolti. L'opera presenta una lunga iscrizione che ricorda il nome di Luisa, il nome dei figli, le date e anche in fondo in basso il nome di Luigi Poletti. Questo dimostra il legame, l'invenzione di Luigi Poletti e la realizzazione nella bottega romana del Tenerani. È stata commissionata dai conti Mattioli. I conti Mattioli abitavano in via Sigismondo, quindi proprio vicinissimi alla chiesa di Sant'Agostino. Sono legati a Audiface di Ottallevi perché Audiface di Ottallevi era la personalità presso il quale Luigi Poletti quando si trovava a Rimini soggiornava. Ricordo che Luigi Poletti ha realizzato i disegni per il Teatro Galli nel 1843 e ci sono voluti circa 15 anni per seguire i lavori del teatro, per realizzare questa grande opera e quando Luigi Poletti soggiornava nella nostra città era ospite del Marchese di Ottallevi. In una di queste occasioni in cui Luigi Poletti è venuto a Rimini, egli ha anche realizzato i disegni di un importante casino per la veleggiatura, cioè una piccola villa che si trova a Vergiano. Questa villa è ancora esistente, molto bella e affascinante, ricorda nella sua architettura l'ingresso anche del nostro Teatro Galli, le colonne del portico ed è stata proprio progettata da Luigi Poletti per il Marchese Audiface di Ottallevi. Ora noi questo edificio lo chiamiamo Villa Mattioli, proprio perché i Mattioli sono i proprietari che successivamente hanno acquistato questo edificio e quindi c'è proprio un legame tra Poletti, Mattioli e Tenerani. Cosa significa questo? Che spesso c'era un artista che pensava l'opera e in questo Poletti è sempre stata molto presente, anche qui al Teatro Galli ha per esempio disegnato e seguito tutte le decorazioni e poi c'era chi l'ha realizzato, quindi nel basso rilievo anche che si trova a Sant'Agostino c'è questo legame forte tra Luigi Poletti e Tenerani. Un legame che è espresso anche dall'iscrizione, dalla firma di Pietro Tenerani che si trova sulla spalla del busto ritratto. A proposito di busti, il Museo di Roma di Palazzo Braschi, un'istituzione del Comune di Roma, conserva una preziosa collezione di gesti di Tenerani. Tra i numerosissimi busti c'è anche l'autoritratto, quindi diciamo quest'opera ci fa conoscere il volto di Pietro Tenerani. Pietro Tenerani è stato un importante esponente neoclassico ma anche del purismo. Lui aveva firmato nel 1846 il manifesto che si rifaceva a Raffaello, che voleva diciamo ispirare dei sentimenti veri, puri nei confronti ad esempio della fede, ad esempio anche dell'amore filiale, che direi che emergono proprio anche dal basso rilievo che ricordavamo prima realizzato negli anni 50. L'importanza di Tenerani nel firmamento della scultura italiana appunto è sancito dalla sua appartenenza alla prestigiosa Accademia di San Luca, un'istituzione antica che annovera scultori, pittori e architetti e dove sia Tenerani che Poletti sono stati presidenti. Infatti tra le collezioni che ha l'Accademia di San Luca ci sono anche delle opere di Tenerani, spesso sono stati regalati dagli accademici di San Luca e tra questo l'importante flora, un'opera che ci dimostra un altro elemento diciamo del suo fare artistico, ovvero realizzare delle sculture ispirate anche ai temi classici. Quindi chiudendo questo busto ritratto di Poletti che si trova nel teatro a Mintero e Galli può manifestare un legame tra Rimini e Roma, tra l'essere aggiornati, tra avere degli artisti architetti piuttosto che scultori importanti nello stato pontificio e ci mostra anche questo legame che c'era tra i committenti, chi pensava tutti i monumenti, in questo caso l'architetto Poletti e poi chi realizzava le opere e in questo caso per quanto riguarda la scultura è Pietro Tenerani, il quale non aveva soltanto realizzato il busto ritratto del progettista dell'archistar del tempo potremmo dire, ma aveva realizzato anche i gessi di due statue rappresentanti la commedia e la tragedia che, come dire, accoglievano i visitatori quando poi entravano all'interno della sala scenica, statue documentate purtroppo ora soltanto da una bellissima fotografia custodita nell'archivio fotografico della biblioteca Gamma Lunga perché andate perdute con le bombe della seconda guerra mondiale. Grazie a tutti.